In questo momento di crisi sanitaria, noi pazienti cronici affetti da sindrome fibromialgica abbiamo vissuto un dramma dentro il dramma. Ci siamo ritrovati isolati, ci siamo ritrovati frustrati e abbandonati. Non abbiamo la possibilità di un confronto medico, non abbiamo la possibilità di cambiare terapia. Di avere addirittura terapia dopo la diagnosi. Se prima eravamo malati immaginari. In questo momento ci siamo ritrovati a non essere anche più considerati dei malati. Dobbiamo fare qualcosa. AISFODIV deve fare qualcosa. Come? Fornendo un'app di monitoraggio che vuole essere un ponte di comunicazione tra i pazienti e con i medici. In modo da potergli fornire un aiuto, un supporto, una relazione, un confronto. Vi chiediamo quindi di sostenere la nostra campagna. Con un'app accanto è tutto più semplice. Farete in modo di farci uscire dall'isolamento e creare una relazione che sarà terapeutica. Chiediamo a chiunque può e vuole di donare. Oppure a voi aziende. Potete donare una parte del ricavato di un vostro prodotto che decidete di destinare a questa nostra campagna. Andate sul sito www.sindromifibromialgica.it Basta un clic per donare. Grazie. 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 Grazie di cuore. Grazie. Grazie.